Oggi è una giornata abbastanza fresca e mi godo questo spettacolo del Chiostro della Santissima Annunziata. Ecco qua, prima ho guardato la cappella di San Luca con la visita guidata dalla mia amica Lia e ora mi godo una sosta qui nel Chiostro, sempre a Firenze, alla Santissima Annunziata, che però anche questo non è visitabile se non durante l'apertura straordinaria grazie alla presenza degli amici dei musei e monumenti fiorentini. Questa associazione che si occupa appunto di aprire là dove è quasi sempre chiuso.